Una serata per indagare le origini del conflitto israelo-palestinese tra passato e presente. Israele e la Palestina, le radici di un dramma, il titolo dell'incontro promosso dalle acli di Arezzo. L'appuntamento è in programma alle 21 del 6 dicembre all'auditorium Aldo Ducci ad Arezzo. L'appuntamento riguarda un approfondimento sui temi della pace di questi nostri tempi, soprattutto la Palestina, verrà ad Arezzo Fulvio Scaglione che è stato per anni redattore di Famiglia Cristiana e esperto delle questioni palestinese in quanto ha vissuto giornalisticamente le vicende della Palestina per diverso tempo. Si svolgerà nella sala Montetini del Comune, in piazza del Comune di Arezzo, il 6 dicembre alle ore 21.